Siamo qui grazie ad Alberto Bombassei e siamo in un punto di innovazione di un Paese che è stato nei secoli e nei millenni grande nell'innovazione, che lo è oggi più di quanto venga riconosciuto e che lo può essere molto ma molto di più. Nel novembre 2011 è stato ricordato da diversi oggi. Era completamente differente la situazione, bisognava mettere gli italiani di fronte a verità colpevolmente negate fino al giorno prima. I finti buoni li avrebbero portati gli italiani al fondo del precipizio dal quale ci siamo fortunatamente allontanati. Oggi possiamo guardare alla crescita con maggiore ottimismo ed è possibile parlare senza alcuna incoerenza di una graduale riduzione delle tasse, con senso di responsabilità, senza esagerare in promesse che non si possono mantenere. Qualcuno è stizzito in queste settimane nel dibattito politico perché io parlo della possibilità misurata graduale della riduzione delle tasse. Ma non è affatto incoerente questo e quello che insieme gli italiani hanno fatto sotto la guida e l'impulso del governo nel 2012 era strettamente indispensabile fare, ma non per sempre. Le situazioni cambiano. Ci sono costi e mancanze di efficienza da parte degli apparati pubblici che abbiamo appena cominciato a intaccare, ma anche lì ho visto nella mappa del Parlamento dove si annidano le resistenze di partiti in collegamento con strutture degli apparati pubblici che rendono difficilissimo fare altra strada. Il governo ha proposto cose in materia di province, in materia di controllo sulle spese delle regioni, restando abbastanza con un pugno di mosche quanto a realizzazioni finali in termini di decisioni parlamentari rispetto a quello che il governo aveva proposto.